qui a parlare quindi con Gualtiero Carraro che ci racconta un po' come appunto il digitale può trasformarsi in occasione di lavoro per i nostri ragazzi. Non solo per i ragazzi evidentemente. Allora il titolo è le conseguenze etico-culturali dell'intelligenza artificiale e l'impatto sulla cultura e l'apprendimento. Partiamo da un'analisi di ciò che sta accadendo su internet e di come tutti i giorni noi ci troviamo a interagire di fatto con l'intelligenza artificiale. Dove? Ad esempio quando noi andiamo su social media i contenuti ci vengono proposti attraverso delle rotazioni che sono gestite da algoritmi. Quando facciamo una ricerca su Google usiamo un sistema che adotta intelligenza artificiale. Quando troviamo dei messaggi pubblicitari contestuali anche questi sono regolati da sistemi di advertising rotation personalizzati. A volte noi possiamo imbatterci anche su internet e nei social con delle entità che non sono umane ma sono dei bots, sono degli sistemi artificiali che interagiscono con noi. Troveremo sui sistemi di commerce suggerimenti promozionali ma questi sono solo degli esempi. Qual è la considerazione di fondo? Che tutte queste esperienze di intelligenza artificiale che facciamo su internet sono state gestite da alcune società private. Quindi parliamo di Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft che giustamente hanno come finalità il profitto. Ma probabilmente non sono orientate specificamente ai valori etici dell'educazione. Anzi possono ottenere rispetto a questo fine, quindi parliamo di etica, la finalità degli effetti negativi e vediamo quali sono questi effetti negativi. Allora, ad esempio la diffusione di fake news. Le fake news sono premiate dall'intelligenza artificiale perché hanno una probabilità di diffusione molto più alta e quindi generano più visualizzazioni, quindi più profitto per chi monetizza le visualizzazioni. Pensate a quello che avviene nei cellulari. Lo smartphone è stato definito un'arma di distrazione di massa e in particolare quello che ha inventato il sistema per cui tu scrolli all'infinito il cellulare se ne è poi pentito. L'ha dichiarato come un'invenzione nefasta perché in effetti ci porta attraverso poi continue correlazioni di contenuti a una distrazione permanente. La riduzione del senso critico. Qui c'è un altro meccanismo che si chiama imbuto semantico. Che cos'è? Praticamente il sistema analizza quello che io consulto in rete, scopre quali sono i miei interessi e continua a propormi costantemente questo stesso tipo di contenuti di interessi. Quindi mi infila in un imbuto in cui io continuo a confermare le mie opinioni, anche politiche ad esempio, no? E non ho un'idea del pluralismo e di tutta la ricchezza di contenuti che possono esserci. Quindi c'è anche una bassa qualità dei contenuti perché le fonti sono tutte omologate, quella del papa, del mio vicino di casa o mia sono uguali, non c'è più differenza e diciamo che addirittura c'è un premio per i comportamenti negativi, moralmente negativi, perché sono più tra virgolette popolari, generano più reazioni. Tutto questo non può essere trascurato. Nonostante ciò dobbiamo anche riconoscere che internet è una straordinaria risorsa dal punto di vista del contenuto e c'è quindi una contraddizione tra gli aspetti negativi e le potenzialità. Andiamo quindi a analizzare una parse construence. Noi riteniamo che i mediatori culturali, e qui lo uso in termine generico, posso indicare gli insegnanti ma anche i genitori, ma anche gli editori bibliotecari, debbono estendere il loro ruolo di mediazione culturale in rete. È una cosa che oggi non avviene. È chiaro che non sono pronte queste figure che oggi fanno la loro mediazione culturale in famiglia, in classe o in altri contesti a farlo anche su internet. C'è quindi necessità di un percorso formativo. Che cosa deve portare questo percorso? A comprendere l'evoluzione di internet. È nato 30 anni fa come strumento scientifico, poi è diventato una grande piattaforma commerciale e tutto questo però va capito. Va capito quali sono anche i meccanismi che governano e condizionano la rete. Ebbene, nei videogiochi è stato introdotto a livello europeo un sistema per classificarli sulla base del danno culturale che possono effettuare sui ragazzi. Quelle sono le icone che identificano i videogiochi. Ebbene, su internet non esiste nulla di simile. Noi navighiamo senza alcun tipo di parametro, di giudizio, di classificazione delle fonti, dei contenuti che incontriamo. Quindi è necessario che i mediatori culturali acquisiscono queste informazioni e siano in grado, ad esempio, di identificare nel web le fonti più autorevoli. Abbiamo perso completamente il concetto di fonte. L'ho letto su internet, l'ho letto su Facebook, l'ho visto su YouTube, ma questa non è una fonte, è una piattaforma. Chi c'è all'interno di queste piattaforme? Chi è l'autore? Dobbiamo anche imparare a usare dei nuovi sistemi che sono disponibili di aggregazione e selezione dei contenuti. Possiamo sfruttare anche noi l'intelligenza artificiale per queste finalità, che non sono nel nostro caso il profitto dal punto di vista di un istituto come la scuola, ma sono l'educazione. È chiaro che dobbiamo quindi sviluppare delle forme che possono essere definite di content curation. Cos'è la content curation? Non è la produzione di contenuti, questo aspetta agli autori, ma è la curatela, cioè quell'attività mediante la quale io posso selezionare, commentare, proporre dei contenuti. Guardando rapidamente come è avvenuto l'evoluzione di internet, noi abbiamo avuto una prima fase, il web 1.0, in cui il web aveva dei siti che venivano gestiti dagli amministratori dei siti, i proprietari dei siti, pubblicavano dei contenuti che venivano poi fruiti passivamente dagli utenti. Il web 2 ha avuto invece il fenomeno per cui sono stati gli utenti a produrre i contenuti e distribuirli in rete. Questa cosa però ha determinato un grande effetto, che è l'abolizione della figura della mediazione culturale. Abbiamo appiattito tutti, siamo tutti sullo stesso livello in una grande confusione. Il web 3 deve valorizzare i contenuti creati e soprattutto moderati e selezionati da comunità. Comunità, a mio avviso, proprio di mediazioni culturali. Quindi, rigapitolando, inizialmente il web era una specie di trasmissione che da un editore trasmetteva da un punto a molti punto a tanti utenti, poi invece è diventata una rete punto a punto, quindi gli utenti tra loro si scambiano le informazioni. Noi dobbiamo immaginare adesso un nuovo web nel quale ci sono più strati. C'è sotto l'architettura della rete, poi c'è internet, poi ci sono queste global internet company, queste piattaforme che fanno oggi la interfaccia tra noi e la rete. Noi dobbiamo andare sopra, creare un nuovo strato di mediazione culturale digitale che ci permetta di selezionare in modo critico ciò che avviene all'interno della rete. Questo si può fare, sta già avvenendo nel settore per esempio giornalistico dove è necessario identificare le fonti che propagano fake news. Stiamo iniziando questo percorso, ci sono nuove iniziative in questo campo e gli strumenti sono strumenti di content curation. Che cosa fanno? Mappano nella rete le fonti di qualità, analizzano e selezionano i contenuti e li propongono attraverso diversi front end, diversi sistemi attraverso i quali gli utenti possono fruire di questi contenuti, usando anche l'intelligenza artificiale. Sono processi che stanno avvenendo, ripeto, è già avvenuto nel settore giornalistico, soprattutto in Gran Bretagna, stanno nascendo iniziative di questo tipo. Noi tra dieci giorni faremo, pensate un corso ai bibliotecari, immaginate il futuro delle biblioteche senza la carta. Quale può essere il ruolo del bibliotecario? Ebbene il corso sarà proprio content curation. Impariamo a diventare dei mediatori culturali che mediano tra la rete e gli utenti. Questo è il messaggio che vorrei dare. Quindi esiste un ruolo, uno spazio per la comunità educativa che oggi è in un certo senso offline, fuori dalla rete, deve entrare nella rete e operare un filtro con una nuova finalità etica che non è, ripeto, il profitto o la profilazione, ma è l'educazione. Grazie. Grazie.